Konnichiwa Furikutes, bentornati qui su Yo-Kai Watch 4 e siamo in una parte finalissima della storia. Noi dobbiamo fare cinque missioni chiave ma dobbiamo compiere quest'ultimo passo con tutti i nostri personaggi perché dobbiamo sbloccare un nuovo livello per affrontare poi la prova finale. Quindi iniziamo con Bruno, andrò velocissimo, spero di andare velocissimo, proprio per farle tutte e cinque in questo episodio. Lo Yo-Kai del fiume ve li a giorno e notte sulle acque di questa città in attesa di incontrare qualcuno in grado di risvegliare i suoi veri poteri. Questo è il segreto degli skis, quindi inizio con lui ma potevo iniziare con qualcun altro a caso. Intanto ci dirigiamo verso il luogo della prova, mi raccomando come al solito, pollicione in su per questa serie che volge al termine, andiamo verso il luogo di questa prova e poi proseguiamo. Qua già c'è l'altra che credo sia con Cole, ma noi ci vediamo al fiume. Eccolo, molto strano che la gente ci passi accanto senza notarlo, però in realtà, ovviamente essendo uno Yo-Kai, non so se è proprio uno Yo-Kai, è la nostra vocazione, è proprio passato in mezzo. Comunque, vediamo un po'. E' Killin, ciao Bruno. Bella bro, è un piacere vederti, tua nonna mi ha informato della prova. Che ci fai qui? Se ben ricordo non dovresti essere tu il protettore dei fiumi di Val d'Oro. Esatto, infatti io sono qui solo per guidarti alla tua prova finale. Lo Yo-Kai che dovrei aiutare non sono io, ma lui, Dragazur, che è anche nel nostro team. Conosce solo la sua forma normale, ma ora senza di aver bisogno di un potere superiore. Anche tu hai affrontato una prova simile? La mia fu una prova senza precedenti. E' più semplice di quanto pensi. Io dovrei sfidare Zuke, il mio signore. Ok. E se noi invece lottassimo contro di te? Potrebbe funzionare. Beh, lotta? Allora, abbiamo la lotta contro Killin. Dai. Sì, siamo pronto. Bene. Stavolta ho fatto tutte le mie energie e combattiamo. Allora, queste sono delle lotte non boss, però praticamente è come se lo fossero in realtà. E' sconfitto! Non ve l'ho mostrata tutta, non era una lotta così difficile, ma l'abbiamo sconfitto. Anche perché altrimenti con 5 prove di questo tipo diventa un episodio di 40 ore. Bene, sconfitto, abbiamo vinto. Ben fatto, non mi aspettavo niente di meno dal capo dei detective. L'ora veramente lo riconoscono come capo. Secondo me ancora non si è risvegliato, è possibile? Eh no, invece forse sì. Eh no, invece no. Se anche c'è le drago abbiamo avuto questo problema, chi sarebbe? Il suo predecessore. Ok, c'è le drago. Un drago celestiale. Uh! Andiamo? Ah, è venuto a mancare, infatti. È vero. Qualche volta succede anche a noi. In che senso? I cocai che vengono molto a lungo. Ah, possiamo tornare nel passato. Beh, sì. È sempre stato molto preso dalle sue mansioni. Mi chiedo se anche io diventerò mai come lui. Dobbiamo andare nel passato. Ok, per c'è le drago che sicuramente ci aspetta. E dovremmo fare un'altra bella sfida, probabilmente. Allora, la slot che è del passato era vicino al fiume, quindi direi che è più indicato qui. E infatti sembra che sia da questa parte. Vediamo un po' con il radar. Uh, ecco il qua davanti. Il drago Shenron, praticamente. C'è le drago. Salve. Ma tu sei un umano. Siamo qui per chiederti un favore. Abbiamo bisogno del tuo potere. Dopo la tua scomparsa sarò io a proteggere i fiumi di questa città. Non ci credo, ovviamente. Ragazzura è molto potente. Silenzio, non voglio sentire altro. Ma in che senso? Eh, ma allora lottiamo. Batterti. Se voglio darmi una mano contro il voto scuro, devo darmi da fare. Ci sta snobbando. Te la faremo vedere noi, mio caro. Te la faremo proprio vedere noi. Sfidiamo celedrago. Se non sbaglio... Cioè, anzi, penso che il drago azzurro dovrebbe stare sempre in prima fila nella lotta. Quindi direi che siamo pronti con la stessa squadra di prima. Sfida contro celedrago. Anche in questo caso il vortice iniziale della sfida è blu. Quindi non è una lotta boss. Ma in realtà praticamente lo è. Quindi, attenzione. Yes! Con tre punti vita. Infatti mi ero allontanato. Ho detto, vabbè, ne rocco, fai tu. Io mi metto di lato e sparo il mio proiettileoni. Bene. Anche questa è fatta. Non era molto difficile nemmeno questa come sfida. Quindi non era proprio una lotta bossa. Ai fini della storia magari sì. Non permetto a niente a nessuno di far del male ai miei amici. Ah, Super Saiyan! Oh, finalmente si è trasformato! Ben fatto. Sei stato davvero in gamba prima. Ed ecco il risultato. Ti sei trasformato in King Long. King Long. Eccolo! Sembrano tipo uguali, ma con colorazioni diverse. Stava fingendo. Bravo. La protezione dell'amico. Il potere era già suo. Aveva solo bisogno di un innesco. Ora però sono più tranquillo. Questo fiume sarà ancora in ottime mani. In effetti non ha senso andare contro al successore come protettore del luogo. Perché, appunto, avrebbe dovuto prendere il suo posto. Ah, possiamo evocare King Long. Adesso avremo un aiuto in più nella lotta contro il vuoto scuro. Splendido! Che sfida incredibile. Due draghi leggendari che lottano uno contro l'altro. Wow! È come se stessi vivendo in un sogno. Vi prego non svegliatevi. Deve essere bello da spettatore. Ho deciso che poi vorrò trovarvi ogni giorno. Ok. Ah, ecco perché! Sbaglio o... No. Sbaglio oppure... Sì, lui poi nel... Quando noi abbiamo incontrato Dragazzurro lui era un grande fan di Dragazzurro. Ecco perché da questo momento diventa fan e si intreccia la storia anche passato, presente e futuro. Bello! Da una prima volta abbiamo incontrato Dragazzurro mi ricordo che lui era proprio il fan numero uno. Eh, ma cosa vedo qui davanti? Cosa vedono i miei occhi? Cosa vedono i miei occhi? Uno yokai più interessante dell'altro. Il maestro Mew con un iguerriero e un blu. Ecco ti ragazzo, ci stavo aspettando. Non è ovvio, sono qui per certo porto alla prova dello yokai watch. Possiamo iniziare. È tempo di sentire il tubo! Si usa il tubo! Cos'è il tubo, secondo te? Un oggetto che si usa per innaffiare le piante? Un'imbattibile arma antimostri? Uno yokai? Un tipo di cibo? Signori, domanda del giorno, per forza, per forza. E io senza indugi e con altissima determinazione utilizzo questa, anzi scelgo questa risposta un'imbattibile arma antimostri, per forza. Ma no! Da dire il vero tutte queste risposte erano errate. In realtà c'è solo un modo per scoprire cosa sia il tubo. Dovrai combattere contro i miei fedeli discepoli e dimostrarmi la tua forza. Con questa rima chiudo il mio discorso. Ora vorrei prepararti per la sfida, ragazzo. Siamo pronti, siamo pronti. Ah, ma c'è anche Shogunian dietro. Ah, non l'avevo visto. È così piccolino. Bene, sono pronto, sì. Sì, ria inizio alla sfida. Anche in questo caso non sembra una sfida boss, ma quasi lo è. Ben fatto! Ora è il momento di risvegliare il tubo che è in te! Andiamo, io vi faccio vedere perché maestro Mew mi piace un sacco. Cosa? Ma... No! Ura guardiano! Cosa è successo? Ma questo è... Già, proprio così. Chi diamine è questo yokai? Non lo sa nemmeno lui. Ura guardiano! Piacere di conoscervi, gente. Ma è bellissimo. Io ho una mezza idea di chi possa essere, ma non ve lo dico. La tua prova non è ancora terminata. È vero, hai acquisito il nome di poteri, ma questo non significa niente. Per dichiarare aver concluso il tuo testo, dovrai rinabbattere anche me. Me l'aspettavo anch'io. Sì, sì, sì! Let's go! Let's go! Contro il maestro Mew! Che... Ha anche gli alleati, perché fosse stato da solo, sarebbe stato molto più semplice. Voglio vedere che cosa sblocchiamo adesso. Guardate quanto è forte! Spirito guardiano. E adesso possiamo usare Evocazione Susano. Vi ricordate chi era Susano? Era quel piccolo yokai. Vuoi impostare Evocazione Susano come mostra speciale? Sì. Eccolo! Eccolo qua! Sono davvero a pezzi! Ora guardiano, in realtà era il piccolo Susano. Il tuo nuovo potere ha fatto risvegliare la mia vera forma. D'ora in avanti potrò contare anche su quella in battaglia. Grande! Ehi ragazzo! Eccolo! 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 Il tubo! Il tubo! È in merito sempre degli amici, conclusa la prova. Finalmente! Che il tubo! Sia con te! Era proprio un tubo. Sì! Sembrava proprio un tubo. Cosa? Grande il maestro Mew! Ottimo! Finita anche questa missione chiave che era all'interno di questo piccolo santuarino bellissimo, secondo me, triangolare all'interno della città con anche... ci sono piccole... a parte che qua c'è una roba di... di trisalamandra. Di solito ci sono queste piccole bacheche nei... nei vari templi e ci sono queste targhette in Giappone con... a volte le ho viste con scritte di persone che visitano quel luogo e quindi quel tempio e che lasciano un pensiero un ricordo soprattutto per i cari e quindi è esattamente una cosa che esiste veramente molto carina compresi anche questi piccoli tempietti o piccoli santuari in mezzo proprio alla città quindi 100% canonica come cosa all'interno del... del Giappone non solo del passato ma anche effettivamente del presente ma andiamo a parte che qua mi sta investendo questa macchina andiamo a sbloccare una nuova missione e proseguiamo con Cole che se non sbaglio è esatto sicuramente deve andare da cala bambino per la sua prova non dimenticarti le barrette cosa sta confabulando con Vishnian hai mangiato? sì fantastico cosa deve sapere? dove il mio allenamento non avrei problemi contro voto scuro certo chi è? sono tutti sono tutti tutti e quattro più a cala cinque ragazzi siete già arrivati? ti vediamo in difficoltà ascolta Cole la tua prova consisterà nel risvegliare finalmente a cala e con a cala intendiamo quello vero non il ragazzino che è di fronte brutti e ruderi millenari sì sì lo sei anche tu però sei nella versione piccolina l'ultima volta che ci riuscì fu in grado di salvare tutti i miei amici non posso mettere a rischio la loro incolumità proprio contro voto scuro sì io risveglierò a cala e insieme a lui sconfiggeremo il sole nero ok sì insieme tutti insieme wow insieme non me l'aspettavo allora ho messo a cala in squadra come primo tra o meglio tra i primi tre rispetto ai sei e adesso siamo pronti per affrontarli tutti incrocio un po' le dita perché sono forti oh mio dio guardate quanti sono preparazione allora vediamo un po' chi dobbiamo affrontare xuanbu lo so chi dobbiamo affrontare però vediamo un po' su chi concentrarci per primo ok più o meno hanno tutti quanti vite simili debolezza ma ho solamente a cala siamo solamente in due pensavo di avere tutta la squadra e beh allora qua è veramente difficile proviamo a affrontarne uno ma sono veramente 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 no impaurito non lo so però proviamo proviamo così non posso utilizzare la trasformazione ma scusa qualche altro deficit me lo vuoi dare cioè veramente in più quello è pigro cosa ma scusa dai ma cioè quello è pigro quell'altro non mi fa fare la trasformazione cioè l'unica cosa che posso fare è questa aia 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 siete troppi siete troppi siete troppi ma l'ha già perso vabbè eh raga ma di che stiamo parlando dai oh con il braccioni sto spaccando tutti con il braccioni con il braccioni guardate era era la strategia vincente dai mi manca solo l'ultimo no 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 allora adesso che ne è rimasto solamente uno 1v1 eh 1v1 adesso ci siamo no vabbè la strategia era il braccioni vai così abbiamo abbassato un po' le statistiche manca l'ultimo colpo non credevo di farcela non credevo di farcela per un momento ho detto beh non ce la faccio invece il braccioni era la strategia non mi faceva fare niente la trasformazione non mi faceva avere una squadra completa niente temo di dover affrontare ancora qualcosa finché 1v1 mi va bene allora ho rimosso Akala dalla squadra perché devo affrontarlo non posso tenerlo in squadra e ho messo in squadra invece Wokshillo a livello 1 spero che sia solamente una sfida 1 contro 1 me la voglio giocare così ora perdo sicuro perdo perché l'ho fatto si trasforma veramente con questa semplicità wow davvero fighissimo dobbiamo essere degni della sciapola del tuono è pure sfida boss ma perché io mi voglio male veramente perché mi voglio male ho messo Wokshillo a livello 1 allora ovviamente vabbè bersaglio è 1 forte call questo terra allora Akala non so di che tipo possa essere ma in realtà tipo tuono e spero che debole sia la terra quindi nerorco va bene la nostra trasformazione va pure bene quindi direi che possiamo provare vai inizio lotta questa volta vorrei provare ad essere un po' più forse aggressivo ok gli abbasso subito la difesa e la resistenza e provo appena mi da l'occasione provo a fare subito la trasformazione in Bayou perché di tipo terra aia mi ha comunque bloccato dai 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 vai veloce vai 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 e infatti risorsa naturale non so se l'ho preso passo del falco sto provando a fare tutti quanti tutte le mosse e provo anche l'energimax finale però non li ho fatto moltissimo in realtà non li ho fatto mica tanto speravo di più in realtà non so se è giusto il mio predict sul fatto che potesse essere debole alla terra lui molto bene che sta attaccando nerorco davvero molto molto bene e andiamo per l'ultimo attacco cioè l'ultima serie di attacchi non l'ultimo via 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 molto via molto via proviamo a bloccarlo così nerorco si sta comportando benissimo noi gli abbiamo abbassiamo la difesa e shogunyan credo gli dà il colpo di grazia e abbiamo vinto sono curioso adesso può oscillo di quanti livelli può salire è salito di 11 di 10 livelli anzi congratulazioni hai sconfitto tutti e 5 gli spadaccini yokai ora anch'io a cala posso finalmente riconoscere la tua vera forza donandoti la mia arma più preziosa la sciabola del tuono yes grazie mille ora il nostro padre è nelle tue mani ben fatto Cole prima di salutarci però vorremmo dirti anche un'altra cosa hai ricevuto la nostra approvazione e meriti di sapere tutta la verità più precisamente ti racconteremo la leggenda delle nostre armi celesti dunque molto tempo fa queste 5 armi furono maledette era tutto un piano di vuoto scuro ma noi lo scoprimmo e lo sigillammo da quel giorno proteggiamo le spade per evitare il suo risveglio completo ma se le spade sono tutte qui come ha fatto vuoto scuro a tornare semplice il suo rancore è talmente forte da poter rompere ogni sigilo non c'è ragione di preoccuparsi un modo per sconfiggerlo c'è ora che hai tutte e 5 le spade potrai eliminare quel rancore tu stesso una delle chiavi per sconfiggere vuoto scuro sei tu se avessimo agito noi ci avrebbe annientato in un batter d'occhio il sonno nero è un'entità pericolosissima tutto quell'odio che ha accumulato gli permette di rigenerarsi anche dopo la battaglia più feroce e faticosa anche la storia del risveglio di shuka era parte del suo piano come già sai tutto ciò spiega perfettamente la vera essenza di vuoto scuro wow si qual è il suo dubbio perché non ci avete parlato prima della vera storia di vuoto scuro sarebbe stato troppo rischioso ah lui c'è sempre uno di d'occhio rimanendo nell'ombra ha continuato ad aspettare il momento giusto per colpire inoltre non potevamo permettere che succedesse qualcosa a voi ok diciamo che ci crediamo ci crediamo eh siamo imbattibili addirittura la mia forma infantile continuerà a combattere al vostro fianco ah ok quindi comunque torna torna in squadra va bene fatto ottimo ottimo quindi abbiamo completato anche questa missione ne ho altre due sono parecchio provato da tutte queste prove devo dire provato dalle prove e siamo pronti per continuare con le ultime due missioni chiave ho dovuto prendere una pausa perché ero veramente stanco dalle prove e ma adesso abbiamo katie e mi sono lasciato per ultimo frake quindi vado abbastanza veloce perché quest'ultima prova anche se impiega kiubi e velenotto direi che fino adesso le prove sono state doppia sfida boss semi boss e poi si conclude con un upgrade vediamo vediamo questa uh attenzione quindi katie è un kiubi diciamo non sarà una passeggiata ok test avviato ci stavo arrivando ok per superare la prova dovrei convincere ognuno di noi a unirsi a tenere la battaglia contro vuoto scuro ah quindi questa è abbastanza diversa dobbiamo farci le amici sarebbe molto molto interessante ottenere tutte queste belle medaglie allora lo dà le sue abilità lo diamolo lo diamolo eh vabbè subito giusto ok ok mi piace se è così è bellissimo vediamo invece che strategia dobbiamo adottare con Robo Nian lo dà le sue abilità parla del suo sistema operativo chiedi sistema operativo ok non sembrava stesse parlando del sistema operativo però abbiamo beccato la frase giusta non so se li sto veramente beccando o se sono scriptati vediamo la sciarpa sto cercando di utilizzare le frasi più indicate per lo yokai rispetto a quelle generiche yes eh ce l'ho già fatta quindi andiamo da QB con una missione del genere beccare tre medaglie o tre chiavi sarebbe 100% worth it worth it perché è il professore in realtà ah il tipo che ho chiamato saprà come renderti più sicura ok un istruttore molto famoso a UK World sergente quadro sicuro infatti arriviamo menti preparati e poi torna probabilmente dobbiamo sfidarlo abbiamo tutta la squadra al massimo e quindi direi di affrontarlo subito sì speriamo che basti questo proteggere tutti dai dai Katie eccolo qui sergente quadro ok mammolette ok sfida contro sergente quadro probabilmente anche gli altri saranno in mezzo in tutto ciò invece no sembra solamente lui vai ok ci sta anche che non sia totalmente una missione solo di lotta spirit amico due certo che lo impostiamo l'abbiamo migliorato adesso apposta ottimo battaglia fantastica comunque stavo dicendo ci sta che non sia una missione solo di lotta perché Katie in effetti come ho sempre detto è più una guaritrice quindi se adesso abbiamo sbloccato un energy max nuovo e abbiamo anche le chiavi di veleno otto rovolian e cubi sarebbe davvero interessante ma non solo di velenotto guarda che frecca ancora c'hai la tua di missione quindi non ti preoccupare ok quindi abbiamo ottenuto solamente quella di velenotto quella di cubi e rovolian no eccoci al monte selvo scura voglio vedere senza spoilerarmi anzi vederlo insieme a voi chi sarà diciamo colui che ci darà questa missione ecco c'è un oggetto interessante lo yogurt molto interessante e buns o tans insomma eh ma là ci sono altri vediamo da mo' che vado al monte selvo scura una prova non ne sa niente cosa state festeggiando per caso sei freck legionario maestro degli yoga assolutamente sì sono proprio io come ho fatto a non riconoscerti rilassati un po' ok parliamo anche con gli altri ora magari una sfida per ogni conversazione salve tutto bene questo è stato all'inizio proprio il secondo episodio grazie ciao ne varia fascino della festa bravissimi te aromatico perché ci stanno andando tutti questi oggetti salve k eh sì qual è il tuo ricordo più prezioso andare nel futuro andare nel passato esplorare gli USA beh allora no esplorare gli USA riguarda yokai watch 3 andare nel futuro beh dai facciamo andare nel futuro eh sì un robot non so se questa risposta ha cambiato qualcosa o meno non credo certo che mi ricordo consegna l'onigiri o sfida nervi macho dai consegniamolo l'onigiri eh ci ha dato lo stesso ah no ok io ho consegnato pensavo ci avesse consegnato lui bello bello per un sushimisto e on blue ne sono felice forza mostrami tutta la tua potenza assolutamente sì voglio assolutamente sfidare on blue vorrei anche avere la sua medaglia iniziamo questa battaglia è da solo non ci farà niente sconfitto anche lui lotta molto molto semplice chiave selvaggi niente di più ed eccoci qua splendido beh insomma è una rissa durante una festa praticamente e vorrei tornare a bounce eccolo è bounce non è dance non è dance ma è bounce sì discorso di chiusura della festa vai sì è conosciuto nel passato nel futuro e persino negli stati uniti lui è grazie grazie a tutti grazie eh sì nanti aspettate un attimo vediamo che cosa vuol dire ciao a tutti sono fraiche il maestro degli yokai sono qua per dirvi che presto voto scuro sarà sconfitto votate per fraiche ma chi sarebbe assolutamente forza adesso passerà il cestino delle offerte voi dovrete dare tutte le vostre medaglie esatto esatto bravi vedete vedete che avevo ragione bene ragazzi siete benvenuti no cosa ah la lotta non pensavo e infatti la sfida è stata molto 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 semplice spirito amico 1 assolutamente sì anche in questo caso grazie grazie yes ottimo yes finite finalmente non ci resta che metterla in pratica sì perché non è successo niente beh ancora ci manca qualcosa no cosa ci manca summer no invece sto avvertendo Laura di shuka è più potente che mai come si vuol dire la fretta è cattiva consigliera ok ah strano che non riesca che succede forse ora scopriremo un po' di più che cosa è successo per un attimo era risvegliata salve Emma mi è giunta voce che a UK World sembra tutto sotto controllo ah ok non riusciamo a capire cosa ci manca ancora non riesco a recuperare i miei ricordi in ogni caso non possiamo continuare a fare affidamento sempre su shuka d'ora in avanti combatterò secondo il mio cuore non preoccupatevi credo che sia giunto il momento come per cosa per affrontare ah no per il vostro compilato di sveglio what bene maestri dello UK Watch mostrate il vero potere degli umani io mi tolgo e let's go è l'anima di Alistair sembra che voglia fondersi con i nostri orologi ecco cosa ci mancava Emma era lui l'anello mancante abbiamo completato il nostro risveglio che strano sto iniziando ad avvertire qualcosa dentro di me è la forza dei vostri amici di Yokai è la prova dei legami che avete con loro uh siamo belli carichi oh no avete appena risvegliato l'enorme potere che giaceva in voi ora è meglio che vi riposiate un po' partiremo domani per i Yokai World della battaglia finale contro voto oscuro si avvicina cercate di mettervi in sesto hmm siamo giunti alla fine Frank come ti senti? a dire il vero sono un po' nervoso non riesco neanche a prendere sonno comprensibile dopo tutto il nostro avversario è temibile solo e nero ho un'idea potremmo fare due chiacchiere prima di dormire ok beh 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 andiamo a parlare con tutti allora abbiamo fatto un qualcosa di eccezionale spero spero che non sia troppo lungo quindi vi saluto al volo vi ringrazio prima di tutto questo episodio e vi do appuntamento al prossimo dove penso che affronteremo inizieremo ad affrontare vuoto scuro quindi mi raccomando pollicione in su e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao